sono nato in un quartiere borghese e poi sono venuto a vivere a piazza vittorio nel 1999 perché avevo voglia di andare a vivere all'estero e poi quel periodo stavo preparando un film che poi ho girato e che si chiama estate romana che è ambientato tutto in piazza vittorio tra l'altro e la casa che poi ho scelto dove vivere era la casa ideale per per girare film la grande differenza che ricordo è che quando sono venuto a vivere qui c'era ancora il mercato in piazza vittorio visivamente la piazza era completamente diversa i cambiamenti già c'erano stati era già da qualche anno che erano arrivati a comprare i negozi dei commercianti italiani cinesi è un quartiere che mi ha dato sempre grandi ispirazioni e continuo a darli perché se adesso da parte vostra c'è questo interesse vuol dire che anche voi avete trovato qualcosa di unico che poi ci sia anche molto nel mio lavoro la curiosità anche proprio antropologica per le facce quindi per me ogni volta che scendevo in piazza c'era una sorpresa un volto che mi che mi colpiva e tanti tanti personaggi che poi ho incontrato in piazza poi sono entrati a far parte anche dei miei film quindi per me l'immigrazione è uno dei motivi che mi ha spinto a venire a vivere qua però come come per me c'era questa spinta a venire per molti c'era la spinta ad andare andare via grazie 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 grazie